Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti poste e anche pagamento bollettini, sitiposte.it Sono trascorsi sette anni dalla tragica scomparsa degli Angeli del Muretto di Appignano, travolti ed uccisi da Marco Ametovic, un evento che sconvolse la storia della comunità appignanese. Ed anche quest'anno, in occasione della drammatica ricorrenza, la Scoli Calcio e la S. Appignanese Calcio hanno tenuto vivo il ricordo di Alex, Danilo, Davide e De Leonora attraverso la disputa di una partita amichevole presso il campo dell'Appignanese. Siamo qui, per noi innanzitutto è un onore giocare per loro, penso ci siano anche familiari, parenti e anche una bella cosa fare questo per loro e vedere almeno così tanta gente che tiene a questi ragazzi. Sì, sì, sono sette anni, mi sembra che ci sia questo memorial e ogni anno, come ho detto prima, ci sono tante persone e per noi è un onore questo. Sì, è una giornata importante dove siamo stati vicini a queste famiglie che hanno avuto questa immensa disgrazia ed è stato un momento veramente particolare per noi. Quando ci sono queste situazioni qua, tutti quanti sono contenti di partecipare perché penso sia una cosa importante veramente. Un sentito ringraziamento, i genitori delle quattro giovani vittime lo dedicano proprio alla squadra bianconera, disponibilissima alla collaborazione ed organizzazione del memorial, suggellata da un piatto celebrativo. Come tutti gli anni facciamo questo memorial e devo dire che la cordialità dell'Ascoli Calcio è per noi essenziale perché basta che chiediamo, loro rispondono sempre a qualsiasi nostro appello. Sono contento, siamo contenti tutti noi genitori che per noi è un sollievo perché purtroppo è inutile dire quello che passiamo interiormente e questo è un giorno che il cuore si riapre un pochettino ripensando i nostri figli.